Sono Alessandro Biagioni, sono uno dei docenti di restauro a freschi dell'istituto. Sono qui in questo cantiere, che sono gli antichi locali della Compagnia di San Nicola, nella dritta della bellissima dieta del Cadmine a Firenze, con i ragazzi del secondo e del terzo anno del corso dei restauro a freschi. Questo intervento, molto interessante, che noi abbiamo cominciato a ottobre di quest'anno, ci ha permesso di affrontare un pochino tutte le fasi principali del restauro degli a freschi e delle vitture murali. Abbiamo cominciato con una leggera pulitura per andare a rimuovere le estese e le dipinture che sono state realizzate negli anni 80 con materiali non compatibili, quindi una pulitura principalmente a tampone e tramite impacco. Poi ovviamente pre-consolidamento della pellicola pittorica per quanto riguarda esforiazione e polverulenza dovute principalmente all'umidità, anche diciamo al fattore di degrado maggiore all'interno di questi locali, visto che siamo praticamente nei locali semi-intervati. Dopo di ciò un grosso intervento di consolidamento in profondità inter-strato, tra i vari strati costitutivi di queste pitture murali della volta, per poi finire ovviamente con la stuccatura. E attualmente invece ci stiamo occupando dell'ultima delle operazioni, anche se poi quella che darà il risultato finale è il ritocco pittorico. Come ho detto ancora la scuola, questo cantiere prenderà ancora del tempo per portare a compimento quello che è il ritocco pittorico, poiché le condizioni conservative erano veramente molto degradate, per cui questo cantiere continuerà ad essere portato avanti dall'istituto anche con le classi che seguiranno. Grazie a tutti.